Ancora apposta con De Litte, la carica Emanuele la butta di nuovo in avanti dove c'è Toretto che prova a spizzicare di testa, ce la fa in favore di Raiz, prova l'appoggio su Wunder Rikki, non riesce però ancora recuperato dall'Ileven che al centrocampo costruiscono calcio, eccolo qua, si appoggiano a Gagliardo, Gagliardo vede il Highlander lì davanti con una fita, prova a girarsi, ancora la palla, Highlander il tiro! Come l'ha messo? Come l'ha messo? Quattro lì davanti, Highlander mette un pallone che non esiste, la butta di nuovo, guarda! La butta di nuovo sotto!